Il Teramo Stecca è di brutto l'esordio in campionato. Bastano i primi 8 minuti della ripresa al Lumezzane per stordire il Diavolo piazzando l'1-2 vincente che risulterà risolutivo inibendo la squadra di Lamberto Zauli non pervenuta nei secondi 45 minuti di gioco. Un crollo inatteso perché nel primo tempo, dopo qualche titubanza, i biancorossi avevano avuto delle chance importanti. Sterilità offensiva e soprattutto la mancanza di filtro a centrocampo sono gli aspetti che più sono risaltati agli occhi. Senza Croce Orlando, Zauli opta per l'11 annunciato con Ilari, Mezzala e Carraro a ridosso del duo Petrella-Sanzovini. Il tecnico delle Lumezzane, Filippini, recupera Furlan tra i pali e sceglie Arrigoni in luogo di Leonetti. Il Lumezzane predilige a gire di rimessa e trova terreno fertile nella trequarta in biancorossa, ma nel primo quarto d'ora non va oltre qualche sterile conclusione dalla distanza. Il primo vero brivido per il Teramo al 27esimo. Caidi e Rossi non si intendono, il difensore anticipa il portiere. La palla arriva sui piedi di Calamai che tenta la palombella con Rossi fuori dai pali. Alta di poco. Il Teramo si sveglia dopo la mezz'ora. Sugli sviluppi del corner di Di Paolo Antonio sponda di speranza per Dorazio. Stop e gran girata con risposta da par suo di Furlan. E' il momento migliore del Teramo. Al trentatresimo cross di Scipioni. La palla corretta da Bonomo si impenna e si stampa contro la traversa. Al trentottesimo bacio Terracino imposta e conclude un'azione di rimessa dei padroni di casa ma la mira non è delle migliori. L'ultima opportunità prima dell'intervallo è per il Teramo traversone per l'incornata di Carraro al lato. Poteva fare meglio l'ex Pavia. Il buon finale di primo tempo non fa presagire il tracollo bianco-rosso di inizio ripresa. E invece dopo cinque minuti le Lumezzane passa in vantaggio con l'azione personale dell'esterno bacio Terracino che infila in velocità Speranza e con un sinistro preciso fa secco in diagonale Rossi. Primo gol in maglia Lumezzane per l'ex Casertana. Neanche il tempo di assorbire il colpo che l'undici bianco-rosso va di nuovo al tappeto all'ottavo. Stavolta bacio Terracino indossa i panni dell'assistman per il taglio di Barbuti il cui sinistro non sembra irresistibile ma Rossi è tutt'altro che impeccabile. 2-0 e gara praticamente agli archivi con la rete dell'attaccante acquistato a titolo definitivo dal Pescara alcune settimane fa. Zauli le tenta tutte inserendo Forte e poi Bulevardi e Fratangelo per Peterman, Ilari e Di Paolo Antonio ma il Teramo non arriva mai pericolosamente dalle parti di Furlan e anzi il 25esimo sempre sull'asse Bacio Terracino-Barbuti e il Lumezzane a sfiorare il Tris. Solo nei minuti di recupero il sindaco Sansovini lascia tracce con questo sinistro dalla distanza. Troppo poco per un Teramo deludente e che ora cercherà riscatto tra le mura amiche sabato prossimo col Bassano ma bisognerà fare molto, molto di più.